Questo è un mandarino nuova ed è veramente a fine stagione, a fine stagione perché siamo inizio febbraio quindi è un periodo in cui questo frutto rischia di diventare asciutto se non lo si raccoglie tutto. Tra l'altro quest'anno la stagione è stata accorciata ulteriormente di qualche settimana perché abbiamo avuto delle forti gelate e l'azienda che produce il mandarino nuova che si trova qui in Contra da Sallio ha avuto grandi danni, quindi le ultime migliaia di chili di prodotto li abbiamo perduti così. Il nuova, e ne abbiamo già parlato, è un frutto apireno e normalmente molto succoso. Il problema che si può verificare a fine stagione di raccolta, ovvero a gennaio, è che la parte alta, qua si vede un pochettino più bianca, possa risultare asciutta. Questo è l'unico rischio che si corre, anche se quest'anno il problema non si è manifestato quasi mai, quindi è andata bene. Grazie. 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 Grazie.